Musica Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con le notizie della Chiesa Vicentina. Nell'anno che Papa Francesco ha voluto dedicare alla vita consacrata, iniziamo insieme un viaggio all'interno delle comunità della nostra diocesi. Partiamo oggi con uno sguardo d'insieme sulle realtà femminili, che sono la maggioranza, ma anche su quelle maschili. Il 2 febbraio si celebra la giornata mondiale di preghiera per la vita consacrata, che nella diocese di Vicenza conta oltre 1600 religiose e 250 religiosi. Il vescovo Beniamino Pizziol presiderà la Santa Messa alle 17 in cattedrale, ricordando il significato che il Santo Padre ha voluto dare inaugurando l'anno dedicato alle persone consacrate. Sono segno di Dio nei diversi ambienti di vita, sono lievito per la crescita di una società più giusta e fraterna, sono profezia di condivisione con i piccoli e i poveri, ha spiegato Papa Francesco. Così intensa e vissuta, la vita consacrata ci appare proprio come essa è realmente, un dono di Dio alla Chiesa, un dono di Dio al suo popolo. Ogni persona consacrata è un dono per il popolo di Dio in cammino. Religiosi, uscite, lo sta dicendo a tutti, lo sta dicendo quindi anche a noi, e quindi ci sta chiedendo che questo sia l'anno della conversione, l'anno in cui il religioso non è più a servizio della sua opera, ma diventa a servizio di un territorio. Com'è la situazione vocazionale dal punto di vista femminile nella diocesi di Vicenza? Nella diocesi di Vicenza, come penso in tutte le altre diocesi a livello nazionale, la situazione è particolare oggi, perché le questioni vocazioni va contestualizzata oggi nella società. Bisogna tenere presente, per esempio, il calo demografico che c'è stato, la mancanza di educazione alla fede che non c'è più più di tanto nelle famiglie, anche la crisi matrimoniale, diciamo, in cui anche i giovani hanno paura di impegnarsi per un lungo periodo, questi fatti che sono manifesti nella nostra società si riversano anche nella vita consacrata, per cui i giovani, soprattutto oggi, hanno paura di impegnarsi a lungo tempo. Però bisogna tenere presente che i giovani, quelli che ci sono e che scelgono la vita religiosa consacrata, sono molto più motivati di un tempo, sono più coscienti di quello che fanno, sono convinti, e per fare questo oggi ci vuole veramente tanto coraggio. Qual è la situazione vocazionale dal punto di vista maschile nella diocesi di Vicenza? Credo sia un po' complicato dire, le congregazioni che hanno avuto inizio alla fine dell'Ottocento, come quasi tutte le nostre congregazioni, hanno ormai poca vita da un punto di vista vocazionale, mentre invece hanno ancora un po' di vocazioni, gli antichi ordini religiosi, ecco, i fratti e altri ordini religiosi, per il resto non mi pare che ci sia granché, da un punto di vista di vocazioni. Le vocazioni religiose sono veramente in crisi forte. È cambiata la spinta che porta oggi alla vocazione? Ecco, lei la chiama spinta, io la direi piuttosto motivazione. Ecco, questa motivazione è sempre quella, anzi oggi deve essere molto più forte di fronte alle alternative molteplici di gruppi, volontariato, associazioni, eccetera. Perché la motivazione qual è? Quella di seguire Cristo e di affrontare oggi delle vere e proprie sfide. Perché la vita consacrata dovrebbe essere segno profetico. Dobbiamo essere persone che conoscono Dio, che conoscono gli uomini, che sentono uomini e donne come propri fratelli e sorelle e che attuano quella che Papa Francesco chiama la prossimità, la vicinanza. Cioè, scrutare la storia, interpretarne gli avvenimenti e scendere nella realtà del nostro tempo attraverso la fraternità, l'amore reciproco, l'accoglienza. È cambiata oggi la spinta che porta alla vocazione? Credo di sì. Per due motivi fondamentalmente. Da una parte perché c'è da parte del giovane meno attrattiva verso l'ambiente religioso, verso l'ambiente si fa fatica a iniettare, a mettere nel giovane i valori forti che spingano alla vita, alla vita di fede. Dall'altra parte però c'è anche una colpa che è dei religiosi, secondo il mio punto di vista, che devono convertirsi. Non possono continuare a vivere come sono vissuti nell'Ottocento, come sono vissuti il secolo scorso. Oggi dal giovane si fanno, dall'ambiente, dalla società, si fanno altre domande e non siamo attrezzati per dare le risposte adeguate. Che apporto danno le religiose nella nostra diocesi anche dal punto di vista laico? Sì. Mi preme dire prima di tutto che oggi molto più di una volta le religiose si sentono parte viva del popolo di Dio, cioè si prestano per una collaborazione diretta nella Chiesa. Una volta forse queste comunità vivevano più chiuse, più separate dal resto del mondo. Oggi invece siamo molto più inserite nella vita ecclesiale, nella pastorale in genere, anche composti, molte volte, di responsabilità. E siamo proprio in uscita, come ci dice il Papa, e come ci sollecita molto spesso nei suoi discorsi, dove c'è maggiormente bisogno della nostra presenza. Per esempio, nella pastorale parrocchiale, nella catechesi, nella guida di gruppi di adulti, di giovani, di adolescenti, nell'accompagnare bambini e ragazzi di varie età, nell'educazione che avviene nelle scuole. Ci sono poi quelle che si dedicano all'assistenza agli ammalati, agli anziani, anche all'assistenza a domicilio. Ecco, pure il portare la comunione agli anziani diventa una missione veramente delicata e preziosa. Che apporto danno ai religiosi adesso, alla comunità anche laica della nostra diocesi? Che bisognerebbe un po' contestualizzare il discorso, perché, come sempre, tutte le cose vanno riferite reciprocamente. Cioè, dal punto di vista dei religiosi, secondo me c'è una chiusura eccessiva all'interno delle loro opere. Per cui abbiamo delle isole all'interno della diocesi che hanno poco aggancio, poco osmosi con la diocesi. Dall'altra parte, però, c'è da dire anche che forse la diocesi non ha grandi domande da fare ai religiosi. È abbastanza autonoma, è abbastanza capace di gestire tutti i servizi. Ecco l'altro punto. I religiosi, in funzione dei servizi, oppure i religiosi, come ci ricorda il Papa, lanciati verso delle periferie che non sono le opere, ma il loro operare all'interno di realtà e di territori. Diamo ora uno sguardo agli appuntamenti in agenda a partire dall'attività del Vesco Beniamino Pizziol. Lunedì 2 febbraio alle 17 in Cattedrale presiede la Santa Messa nel giorno della presentazione del Signore, giornata mondiale di preghiera per la vita consacrata. Da venerdì 6 a domenica 8 febbraio è in visita pastorale alla parrocchia di Breganze, dove domenica alle 16 amministra le Cresime. A Villa San Carlo di Costa Bissara lunedì 2 febbraio dalle 15.30 inizia l'incontro del villaggio Sos che prosegue martedì dalle 9.00. Sempre martedì 3 febbraio dalle 18 c'è l'assemblea dei preti del Prado Diocesano. Giovedì 5 febbraio dalle 20.45 c'è la scuola di preghiera. Venerdì 6 febbraio dalle 11 c'è la lezio divina per i preti del vicariato di Castelnuovo. Sabato 7 febbraio alle 15 c'è l'incontro per i Cresimandi di Dueville, mentre alle 20.30 c'è un incontro sulla Palestina. Domenica 8 febbraio dalle 8.30 c'è l'incontro per i Cresimandi di San Vitale di Montecchio Maggiore. Alle 15 invece c'è il ritiro spirituale per Cresimandi, genitori e padrini di Schiavon. E sempre alle 15 c'è l'incontro del Cammino di Fidanzati con Don Dario Vivian. Al Centro Pastorale Monsignor Onisto di Vicenza lunedì 2 febbraio alle 9.15 inizia la seconda parte degli incontri formativi del lunedì. Anna Zenarolla, docente di Sociologia dell'Organizzazione all'Università di Trieste, terrà una conferenza sul tema Essere famiglia nella società del rischio e dell'incertezza. E con questo è davvero tutto. Arrivederci alla prossima settimana con le notizie della Chiesa Vicentina. Grazie a tutti.